Il nostro meditare, il nostro riflettere sulle lacrime, certamente, almeno a me sta producendo questo, certamente dà maggior significato a questo tempo di quaresima che stiamo vivendo, non perché la quaresima è il tempo del lutto, oppure la quaresima è il tempo in cui le persone devono essere tutte chinate o meglio rinchiuse su se stesse per partecipare al dolore, alla passione di Cristo. No, la quaresima, io dico sempre, è un tempo di gioia, ma di gioia del cuore. E le lacrime quando nascono, per esempio, dal fatto di sentirsi toccati durante il sacramento della confessione, piuttosto che durante il sacramento della quarestia, oppure piuttosto che dall'ascolto di un brano biblico particolare, di una di quelle parabole che per esempio si ascoltano e che la Chiesa ci propone nel tempo di quaresima, o piuttosto si viene toccati dai Cristi, dai Cristi che noi incontriamo ogni giorno, come i poveri, gli ultimi, le persone che soffrono, i malati. E questo fa parte tutto di un dono. Quindi la quaresima è tempo della gioia del cuore perché è un tempo in cui è possibile più degli altri lasciare che il dono delle lacrime tocchino la nostra vita e diventino, e lo ripeto ancora una volta, per tutti e per ciascuno, un nuovo battesimo, una nuova opportunità di rinascita. Ma torniamo a Silacusa, quel 6 novembre del 1994, quando Papa Giovanni Paolo II andò in visita in questo santuario e li pregò. Pregò con una preghiera che è rimasta famosa, in cui ha ringraziato, in cui ha pensato e meditato sul dono delle lacrime. Continuiamo la lettura iniziata già a qualche puntata in precedenza. Le lacrime di Maria, si chiedeva in questa preghiera. Le lacrime della madre, che lacrime sono? Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Sono lacrime di dolore di una mamma come Maria, che vede i suoi figli allontanarsi dalla verità, che vede i suoi figli rifiutare la salvezza, che vede i suoi figli, i propri figli che si distruggano la vita. Io ho incontrato tante mamme e il loro dolore più forte, sapete qual è? Proprio quando i figli non sono felici e quando si distruggono la vita. E Maria con il dono delle sue lacrime non solo ci fa capire qual è la via, ma ci presenta anche il dolore del figlio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.